Ancora qualche mese di pazienza e poi scatterà l'inaugurazione per la gioia di grandi e piccini, nonché per tutti gli amanti del mondo marino. È ormai prossima l'apertura del nuovo acquario della capitale, che prenderà il nome di Sea Life Roma Aquarium e che aprirà i battenti nella prima metà del 2016. Una struttura di notevoli dimensioni situata in piazza Terracini all'Eur, con 30 vasche progettate per ospitare circa 5.000 esemplari appartenenti a più di 100 specie acquatiche ed un'ampia area gioco per i più piccoli. Proprio un gruppo di bambini è stato protagonista di un passo importante verso l'apertura. A 12 giovani ambientalisti, tutti tra i 6 e gli 11 anni, è stata infatti concessa l'opportunità di partecipare al riempimento della vasca oceanica, la più grande e spettacolare di tutto il complesso, capace di contenere ben 524.000 litri d'acqua e attraversata da un tunnel di stampo futuristico con visuale a 360 gradi. Stiamo cercando di portare a casa e di regalare alla città di Roma l'apertura nella primavera del 2016. Oggi, come vi dicevo, è il primo tassello tangibile che ci porterà all'apertura di questo nuovo acquario qui a Roma e di regalarlo a voi. Il Sea Life Roma Aquarium costituirà un'importante rappresentazione della biodiversità grazie alla ricostruzione di diversi ecosistemi naturali visibili a visitatori, i quali potranno godere di un percorso variegato che andrà dalle acque dei fiumi a quelle del Mediterraneo fino ad arrivare ai mari tropicali e ai grandi oceani. Ora sotto con lo step successivo, caratterizzato dall'accoglienza delle creature marine, il cui ingresso avverrà solo dopo la completa maturazione del biofiltro, un sistema naturale in grado di pulire l'acqua da rifiuti organici grazie alla presenza di vari ceppi batterici.